Dottor Di Luzio, si parla del raggiungimento dell'immunità di gregge oltre la metà di agosto. Quanto durerà l'effetto della copertura dei vaccini? Studi precisi ancora non ci sono perché, come ben capite, la vaccinazione è iniziata appena sei mesi fa. Quindi diciamo che attualmente non ci sono studi di lunga durata per capire la copertura vaccinale, per quanto tempo, il tempo di durata della copertura vaccinale. Si sta parlando di dosi di richiamo, però anche qui è precoce dare delle indicazioni su questo aspetto. Probabilmente queste dosi di richiamo saranno indirizzate a soggetti particolari, quindi a categorie particolari come possono essere i fragili, gli ultraottantenni e il personale sanitario che potrebbe essere esposto particolarmente alle infezioni da Covid. E quando si dovrebbe far ricorso a questa ulteriore dose di vaccino? Avete già una sorta di cronoprogramma, almeno pensato, sulla carta? No, non sono state ancora date indicazioni in tal senso ufficiali, probabilmente se ne parlerà il prossimo anno.